si incendia una macchina guardate le immagini prende letteralmente fuoco nei pressi della rotonda ci troviamo proprio vicino alla caserma dei vigili del fuoco che sono subito intervenuti il traffico è stato bloccato e sono intervenuti subito con degli idranti per spegnere facciamo un appello alle persone che passano in quella zona di fare molta molta attenzione prestare molta attenzione perché l'incendio è di grosse dimensioni